Dicembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano! Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio e a tutti gli ascoltatori di Cristal Radio. Sempre lì in me, c'ho l'entusiasmo, buongiorno papi, buongiorno, 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 come lo dici buongiorno? Buongiorno! Ma se sei benigni dici buongiorno, buongiorno! Non aspirano la C, non la G. Vabbè, fa niente. Perché benigni, solo benigni può dire buongiorno felice. Eh beh, sì, no. Chi è che dice buongiorno felice? Io sono felice, ma perché non devi essere felice la mattina? Non ti è successo niente! No, scusami, i soldi è ancora. Durante il giorno potrebbe poi succedere un po' di spighe, un po' di sfortuna, un po' di ATM che non parte. A shopperi? E noi saremo qua a riportarvi. Raccontarvelo, ma anche voi potete raccontarci la vostra mattinata come? Al 33178 53555. Whatsapp, foto, quello che volete. Quello che volete. Audio, ma tanto non li ascoltiamo. Ma come no? No, no, no. Cioè, no, no, si può fare. Bisogna fare un giro, un trick, ma si può fare. No, no, si può fare. Mandateci quello che volete. Anche una colazione, perché io continuo a avere fame ultimamente la mattina. C'è poco da fare. Va beh, partiamo con la musica. Un salto nel passato. Così, volevo fare un giro verso Heldys Presley. Elvis Presley Suspicious Mind è difficile provaci tu Suspicious Mind ma che bravo non sa l'inglese ma lo sa leggere bene ma come lo sa leggere Masieri comunque è un grande pezzo che vi dà un po' la scossa la carica per iniziare al meglio questa mattinata abbiamo detto appunto oggi è il 19 di dicembre sempre più vicini al Natale sempre più vicini al Natale sempre più notizie vicini alle vacanze e intanto al 3317853555 ci scrive Alberto buongiorno Fabio buongiorno Lorenzo un saluto a tutti gli ascoltatori del mattino risveglio particolarmente difficile causa stanchezza e sonno eh ma perché cominciano anche le decenni di Natale iniziano le decenni di Natale iniziano le settimane le settimane scorse alcune però questa settimana è proprio la settimana clou cioè non puoi fare più non c'è una sera libera la settimana sera, pranzi di Natale merende di Natale tè alle 5 di Natale cose ormai qualsiasi scusa è buona per mangiare un panettone poi non so se sono per me ma con le gocce di cioccolato cioè per me sto notando che ovunque vai ci sono panettone grazie perché io li adoro ma quasi tutti al cioccolato io ho mangiato una fetta di panettone basta al momento Pandoro? no no di Pandoro scusa ah solo Pandoro team Pandoro allora qua in redazione abbiamo mangiato un ottimo panettone si che mi ha fatto andare oltre il no no ci sono i candidini non lo mangio ah ok non l'avevo portato io allora perché mi porto solo quello al cioccolato però ho notato che anche altra gente ah forse perché sanno che io sono così amante del panettone al cioccolato mi portano panettone al cioccolato e non vi smettetela mi raccomando mi raccomando il solito testo mi raccomando continuate no così se per caso qualcuno non sapesse cosa portarci per farci gli auguri di Natale un panettone al cioccolato è sempre ben accetto assolutamente noi possiamo contraccambiare con tanto appetito e simpatia si è una pacca sulla spalla si comunque prima l'abbiamo citato breve passaggio sulla malacco del giorno nel 1976 si debutta Benigni in tv hai visto lo vedi quindi chissà oggi si era svegliato in tv e ha detto buongiorno come che fa Benigni scusa buongiorno ma non aspira la G ancora sta storia mi fa ridere pensare che i toscani aspirino tu a tutto così qualsiasi lettera si poi il compleanno di Elisa Elisa chi? Elisa Toffoli ah ok si si Elisa la cantante e poi tra gli sportivi Alberto Tomba grande Tomba la bomba si dice così io 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 ero lì davanti alla tv io purtroppo lo conosco solamente per Alex Lariette ma anche lui purtroppo dice quando si parla di Alex Lariette mi ricordo il famoso Sanremo bloccato e fermato perché c'era la seconda manche della discesa la seconda manche dello slalom speciale di Tomba che vinse una roba pazzesca e poi tra gli scomparsi 27 anni fa Marcello Mastroianni ah però un pianto ieri abbiamo letto di Virnalisi se non sbaglio oggi Mastroianni che secondo leggeremo di te? fa uno ma hai tre morti scusa ma neanche tre tre anni cioè non lo so magari fa qualche anno diranno oggi ci ha lasciato era un bravo ragazzo fu uno dei quelli che aiutò a far diventare il più importante morning show della mattina e quindi ci ricorderemo di te è la vita io voglio ricordarti così bello giovane coloricio è la vita è la vita ed è la vita anche del milanese quella che tutte le mattine deve affrontare la sua lotta personale contro il traffico ma tutto questo può avvenire in maniera più facile semplice grazie a Luce Verde che ci dice la situazione in tempo reale in questo momento e dei giornalisti i nostri colleghi della mattina perché i nostri colleghi i nostri giornalisti vabbè ah vabbè vabbè fanno le rassegne stampa anche loro no non credo non credo che il signor Paradiso da non confondere come dico sempre con la signora Maurizia no infatti non confondiamo neanche col kinder neanche col kinder neanche il paradiso neanche basta con destinazione Paradiso neanche con Lugano Paradiso che ogni volta citiamo esatto no non confondetelo Tommy perché adesso si fa chiamare Tommy Paradiso non so se la sai questa roba no o se la sapevo o l'avevo cancellata mi pare che sulle locandine del nuovo tour ci sia scritto Tommy Paradiso ah vedi è come Prince che cambiò nome tante volte no io lo conosco ah no si faceva chiamare è del simbolo si però lui cioè senza senza che si sapesse che fosse Prince no ma no se per me si parlava del simbolo di Prince ah no allora non lo sapevo ma anche Snoop anche Snoop Dog prima era Snoop Doggy Dog adesso Snoop Dog comunque Tommy Summer Tour 2024 sembra una roba di un gelato sembra letteralmente sembra una roba di un gelato sono sponsorizzato da qualcuno che era lì comunque allora iniziamo con la rassegna stampa ieri c'è tenuto un consiglio comunale particolarmente lungo e già qualcuno ce l'aveva accennato non so se ti ricordi sì 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 perché perché ieri si è sostanzialmente discusso il bilancio vi invito a recuperare una ventina di minuti che con il per due come vi consiglio diventano dieci dell'intervento di Emanuele Conte assessore al bilancio del comune di Milano in cui sostanzialmente legge lo stato dei conti in poche parole però ha guadagnato la carica di mio assessore preferito te lo dico perché? perché? perché l'ho capito cioè era avevo a parte che aveva una postura istituzionale che sai che a me piace allora aveva la postura istituzionale sì ok va bene no vabbè sai capito stavo a rito no ma no ma non postura fisica inteso nella modalità e poi vabbè cioè se parli di conti secondo me devi da non confondere con ti chiami conto non iniziamo bruno eccetera no andatelo a cercare perché l'aveva già detto ai nostri microfoni Davide Borghi consigliere municipio quattro il TPL il trasporto pubblico locale pesa circa un miliardo ed è un terzo del bilancio su tre miliardi di bilancio il TPL pesa un miliardo esatto e in da quello che allora io sono ignorante dal punto di vista economico ma anche in generale anche in generale quest'anno il buco è c'è perché chiaramente mi ricordo che Conte ha detto banalmente si è fatto un investimento ossia è stata aperta a una nuova metro e niente in tutto questo cosa è successo che la Lega ha presentato nove mila emendamenti nove mila nove mila emendamenti che significa a volte spostare una virgola mettere un punto in virgola e cose del genere infatti si legge sul giorno Milano un'azione che i consiglieri del Carroccio definiscono di ostruzionismo e di proposta perché questo virgolettato è l'unico modo per farci ascoltare dalla maggioranza la maggioranza risponde speriamo almeno che li abbiano letti come al solito un clima bello disteso ieri sono entrato per l'ultima volta su youtube tipo alle 11.30 c'era ancora la live del Consiglio Comunale di Milano vabbè comunque non sono gli unici devo dire perché ho visto a settimo milanese stessa cosa Consiglio Comunale rinviato anzi perché appunto non è stato ancora definito bene il bilancio il dibattito è andato troppo lungo ci rivediamo se non sbaglio a Montecitorio è passata quindi alla Camera due giorni fa l'hanno approvato all'alba infatti questa roba qua di fare il bilancio io non la capisco il fatto di ridursi all'ultimo e di prendere le decisioni per sfinimento perché alla fine se approvi un qualcosa alle 6 di mattina vuol dire che prendi le decisioni per sfinimento e siccome è la legge di bilancio è la legge finanziaria soprattutto di fianco è la legge più importante che può uscire da un Parlamento perché dà le linee per ciò che sarà dopo io troveremo un'altra maniera di approvazione forse è proprio anche voluta questa cosa è così dall'alba dei tempi ahimè quindi qualcosa forse è voluto o forse c'è proprio un modo di fare la politica ancora di una certa parte e di una certa generazione anzi mi verrebbe da dire legata a certe modalità che non hanno più senso appunto per i ragazzi come te sono dei marziani sembra e su questo Gaia Romani scrive ieri Gaia Romani assessore dei servizi civici del comune di Milano oggi in consiglio comunale abbiamo avviato la discussione sul bilancio del comune sarà un bilancio di 3 miliardi e 700 milioni composto sulla base di principi redistributivi con l'obiettivo di mettere al centro il welfare educazione e sicurezza per citare il mio collega Conte l'obiettivo è sempre stato quello di evitare che la forbice tra chi sta bene e chi sta peggio aumenti anziché ridursi con l'assessorato ai servizi civici siamo stati parte attiva e auguriamo una discussione utile e costruttiva a tutte le parti coinvolte mi sei rimasto un augurio e basta comunque quasi 4 ormai secondo me tempo qualche anno arriviamo a 4 un attimo non so dove andiamo a prendere ma ci arriviamo in qualche maniera andiamo avanti con la musica adesso invece sono i Blink 182 One More Time se la vi Achille Laura non la cantava corciante se la vi se la vi averti qui con me se la vi se la vi va bene intanto visto che stai facendo Vasco più o meno sì più o meno ma non è che con gli uomini che canto canto così io è lui che canta come me Vasco ha annunciato che uscirà il video di vita spericolata e tu dici 40 anni dopo ho fatto si esce un video di vita spericolata poi ci hanno messo un po' a farlo dai non so ieri l'hanno annunciato anche al TG1 è arrivata la notizia cioè tra due guerre l'ultima notizia Vasco annuncia l'uscita poi il video cioè una cosa che a me non fa più nessuno no ma secondo me è un video magari con le parole come si chiama adesso beh mi auguro di no 40 anni per avere un video fatto di lyrics no sai cosa che avevo letto che forse è un collage di documentari vari con il materiale che hanno fatto per il documentario comunque vedremo oggi esce oggi quindi immagino si è già uscito adesso vado a vedere intanto Alessandro Verri capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Milano scrive ieri continua la battaglia di civiltà per il ripristino del trasporto pubblico locale del municipio 4 73, 77, 66 45, 84 54 e 38 tutte linee tagliate o modificate facendo pagare dazio ai cittadini più fragili ai lavoratori ai disabili e agli studenti le periferie ancora una volta vengono dimenticate da una giunta che non ha nemmeno il coraggio di metterci la faccia su scelte assurde infatti c'è stato il presidio anche ieri esatto con Emanuele Labossi e altri rappresentanti della Lega diciamo locale Verri continua e finisce dicendo ha presentato un emendamento al bilancio per il ripristino di tutte le linee modificate non ci muoveremo finché la maggioranza non tornerà sui propri passi anche Monguzzi ha pubblicato le foto della protesta ieri comunque è una protesta che in quella zona di Milano incomincia ad essere molto sentita e molto forte perché ricordiamo sempre e noi siamo a fianco di chi sta lottando in questo momento per il ripristino di alcune linee non è detto che se ti metto una metropolitana devo togliere l'autus che fa quasi lo stesso percorso attenzione fa quasi lo stesso percorso perché come ci dicevano vari ospiti che abbiamo avuto la metropolitana fa una fermata ogni 5-600 metri l'autus lo fa ogni 70-80 metri quindi insomma è molto più corta è molto più di prossimità è molto lo prendo faccio tre fermate scendo al fruttivendolo al mercato o a dove voglio andare magari per noi che siamo abituati a vivere la città invece in maniera un po' più a lungo raggio non ci sembra che cambi molto ma chi vive invece i quartieri le zone oppure si deve spostare appunto da un quartiere all'altro limite poi invece cambia cambia tanto dipendo dalle esigenze eh sì e non è solo di età di esigenze e di come si è abituato a vivere la città sempre per quanto riguarda la mobilità riportiamo questo progetto della oddio l'avevo letto Bikeonomist 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 che è sostanzialmente una società di consulenza e formazione su temi della mobilità sostenibile presentano il Mimo e tu mi dici cos'è Mimo è uno che sta fuori dalle vetrine del negozio a fare Mimo ormai questa roba di acronimi Milano Monza bravissimo il sogno della Greenway da Milano a Monza il progetto Mimo per una pista ciclabile non è che hai detto Milano Copenaghen per una pista ciclabile che corre lungo Viale Sarca quindi per Milano si intende Viale Sarca quindi semplice prendila da Porta Romagna sostanzialmente una pista ciclabile immersa nel verde per collegare Milano con Monza e Brianza sarebbe la prima Greenway al mondo e arriverebbe proprio nel capoluogo Lombardo leggo sulla Repubblica Milano in che senso la prima Greenway al mondo? secondo me si intende non che ci sia una ciclabile su Viale Sarca ma penso proprio una cosa separata tutta verde non so ma Greenway è una parola che non abbiamo inventato noi quindi si steggia da qualche altra parte al mondo mi viene da dire ma perché scrivono queste cose giornali così a caso? più precisamente prenderebbe forma a partire da Viale Sarca passando per Sesto chiaramente arrivando a Monza Brianza capito 4 chilometri 5? 15 vabbè 5 mila nuovi alberi da piantare non so io stavo cercando stranamente non c'è il rendering come è possibile? infatti stavo cercando sto cercando quello su Byconomist vabbè capiremo capiremo mi sembra la solita greenwashata così ma stavolta anzi forse anche peggio mi sembra non so però mi interessa mi interessa mi incuriosisce anche perché non era conoscenza di Byconomist adesso quindi lo seguirai? no voglio capire io mi faccio la mia idea però voglio capire tutto dai no no mi è piaciuto è venuto a fare un silenzio così quasi spontaneo più che spontaneo ci hai lasciato senza parole più che spontaneo andiamo con andiamo con un po' di musica perché adesso c'è Mr. Rain ok si con e Clara con un milione non è mica tu è Clara no no anche perché è scritto in maiuscolo quindi alzare una crona non lo so e Clara con un milione di notti sempre qui a Cristian Radio Good Morning Milano vai con la musica un milione di notte Mr. Rain e Clara assolutamente ecco la nostra viola era contenta diceva no no questo è molto bello molto bello mi piace farmi sentire tutta quindi l'ho messa dall'instra fine senza neanche interrompere e tu cosa hai detto niente no no ho detto va bene non l'avevo mai sentita devo dire era la prima volta che la sentivo anch'io quindi comunque che confessiamo che sentiamo per le prime volte alcune canzoni cioè siamo veramente scandalosi vabbè scusate se no io mi chiedo se veramente cioè nel senso che ne so DJ Franklin di Radio Riccio Solitario direbbe così direbbe la prima volta che si no scusate noi mentre vanno le canzoni dobbiamo fare cose ecco quello è vero vedere gente vorrei mangiare dobbiamo farlo io ho fame non sono le intenzioni sono cose effettive da fare per esempio adesso io posso dirvi dopo essermi tolto le cuffie per fare ciò che Pier Francesco Magliorino consigliere in Regione Lombardia e Paolo Romano consigliere in Regione Lombardia che tra poco sarà nei nostri studi sono entrati nel CPR di Via Corelli quando? in questi giorni in questi giorni la domanda era stupida e quindi ci faremo dire perché il titolo è doccia di ghiacciate poco cibo e risse i consiglieri nel CPR di Via Corelli qui dentro è ancora tutto come prima quindi cogliamo l'occasione di averlo qua fisicamente per fare un po' di domande sulla questione del CPR poi sottolineiamo che sono apparse delle croci celtiche manifesti di estrema destra su un lato del liceo Virgilio in Via Pisacane gli studenti fuori fascisti dalle scuole sui volantini appesi nella succursale di Via Pisacane la firma di lotta studentesca gli allievi probabilmente responsabili non sono nemmeno di questo istituto però dobbiamo giustamente riportarlo ok è sempre un tema da cui stare all'occhio è vero che poi succede tutto di più ormai nelle scuole milanesi con gli studenti vari però bisogna sempre stare all'occhio e capire da che parte va la città per cercare anche di prevenire certi rigurgiti assolutamente e poi ci si sta avvicinando al Natale sono iniziati i vari articoli con un italiano su tre parte ed è vero un italiano hanno stimato 27 milioni se non sbaglio 28 milioni di persone che si muoveranno 27 milioni di famiglie ah e si si intende anche tornare a casa dai parenti si muove sono iniziati tutti gli articoli sul caro prezzo durante le feste è impossibile tornare a casa oggettivamente vero ok c'è qualcosa di non oggettivo no in questo caso no mi sembra di no mi sembra di no e poi e la classica cosa che dopo andremo a leggere perché dopo un po' di musica Natale due punti circa 600 euro a testa di cosa a caso per i regali il Natale agli italiani costa 600 euro a testa quindi dopo leggeremo un po' di queste cose per evitare di andare sempre sui mercatini eccetera ci sono tutti tutta la spesa di articoli cosa fare in questo weekend di Natale regalare sciampi e balsami bagnoschiume sciampi non sai cosa regalare che regali quello calze cravate fulano da quando? no adesso buttando calze sempre sciarpe 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 guanti dai i guanti fanno sempre bene infatti fa sempre comodo dai daffi con mercy alle 7 e 50 minuti qui su cristal radio good morning milano gran pezzo mercy 2008 se non sbaglio giù di lì siamo con daffi mi sembra piaciuta daffi non so se c'è live no non ce l'ho bellissima c'è anche una sua interpretazione di una canzone all'interno di I love radio rock che è qualcosa di fantastico bellissimo film quella invece sì 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 riprendiamo dove avevamo quindi guanti e sciarpe oltre a questo ho detto un numero a caso ed effettivamente è giusto perché quanto spendiamo per Natale? 600 euro la spesa media di una famiglia per fare i regali di Natale slalom tra la folla per l'ultimo shopping prima di Natale 600 euro la spesa media di una famiglia milanese sì quindi sappiate che c'è qualcuno visto che io ad esempio spenderò zero c'è qualcuno che ne spende 1.200 per la media è così sicuramente sicuramente e per quanto riguarda la vicenda voli ADN Kronos quindi non certo gente che ne sa sottolinea che a Natale il costo dei voli interni fino a 12 volte più alto Milano-Catania in cima alla classifica quanto costa? che arriva al 1.130% in più rispetto al periodo normale scandaloso scandaloso soprattutto quando poi ripeto forse avessimo fatto qualche rotaia in più forse in Italia praticamente è molto facilmente attraversare con il treno se avessimo fatto qualche rotaia in più magari un po' più veloce e così comunque e fine anno è anche il momento dell'anno delle classifiche lo sai no? delle classifiche di di tutto tutto tu hai fatto il tuo Spotify Rapid altri hanno fatto replay di Apple Music altri hanno fatto cosa hanno visto cosa hanno visto meglio su certi siti che non possiamo nominare anche quelli l'hanno fatto ma soprattutto chi l'ha fatto Google ha detto cosa gli italiani hanno cercato di più nel 2023 nei personaggi abbiamo Sinner dal primo posto che poi se ci pensi è una roba degli ultimi mesi quindi in realtà Lukaku e beh certo e al terzo posto Peppino Di Capri cioè complimenti nel senso fantastico perché Peppino Di Capri perché mi pare che ci fosse stata una diate di Iba con Michael Jackson anche lui come Albano all'epoca no 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 con Imaneskin forse che l'avevano nominato ah sì qualcosa del genere qualcuno l'aveva nominato che ha caratura internazionale allora tutti l'hanno cercato e quindi tutti infatti è vero ma gli addi c'era una sorpresa nel senso che quest'anno Silvio Berlusconi ovviamente ma non è la prima ricerca prima ricerca Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo Silvio Berlusconi terzo Matteo Messina Denaro bisogna capire qui se però è solo sugli addi oppure Matteo Messina Denaro magari cercavi mentre era vivo e poi l'hai cercato anche non lo so cioè boh va bene i film anche qui grande sorpresa nei primi due ovviamente si sapeva Oppenheimer Barbie vince Oppenheimer nelle ricerche su Google ma secondo me perché Barbie la gente sa chi è e Oppenheimer no ahimè ho paura di questo ma al terzo posto c'è ancora domani è infatti uscito praticamente un mese e mezzo fa neanche quindi c'è pensare cosa ho riuscito a fare serie tv ti leggo tutto te leggo no ma sono qua serie tv ne ho vista in tre su due no non è vero ne conosco tre su due ne ho vista solo una di queste tre primo mare fuori ok secondo posto fammi indovinare quella che non hai mai visto però che conosci secondo buongiorno mamma né mai vista né mai sentita terzo lì da poi vista e sentita mare fuori prima non mi sorprende sì non mi sorprende anche se sono abbastanza sicuro che l'ultima stagione di mare fuori sì sia se non di inizio anno quasi anche della fine dell'anno scorso no no sì sì di quest'anno di quest'anno però sì sì per dire quanto è stato cercato ma lo continuo a ricercare poi adesso c'è anche il musical sì a febbraio arriva a Milano il musical quindi anche quello c'è va bene andiamo con un po' di musica Heart Wind and Fire Boogie Wonderland questo è il Crystal History dell'oggi delle ore 8 anzi 8 e 0 8 in questo istante è martedì 19 dicembre e ben ritornati qui su Good Morning Milano eh sì seconda ora ora degli ospiti eh sì abbiamo un ospite in collegamento con noi esatto Edoardo Dubini di Muovermi per la Grande Milano buongiorno Dubini buongiorno a tutti buongiorno Dubini allora oggi parliamo di mobilità viabilità io faccio il mio solito disclaimer all'inizio Dubini poi si ride quando lo faccio perché tutto quello che dirà Dubini io non sarò minimamente d'accordo su nulla però voglio lasciare comunque spazio sempre a Dubini perché porta diciamo una visione per me è un po' strana per lui invece giusta ma poi ce lo racconta bene perché insomma interessante in realtà su una cosa Dubini siamo d'accordo su una cosa quale? per la Grande Milano per la Grande Milano è vero su quello sono d'accordo con lei perché effettivamente troppo poco si parla di una Milano che in realtà non è più questa piccola cittadina ormai tanto facciamo la metropoli ma poi siamo piccini piccini ma è tutta la Grande Milano giusto Dubini? 4 milioni e mezzo di abitanti ed è io penso la più grande area produttiva non terziaria produttiva d'Europa perché Londra e Parigi sono più grandi numericamente e sul terziario ci battono ma come produzione la Grande Milano non ha confronti in Europa eppure abbiamo servizi pubblici da terzo mondo ecco perché la vostra battaglia parte da lì diciamo adesso poi scherzando e ridendo noi la prendiamo magari ogni tanto in giro le chiedo scusa a Dubini sulla questione magari delle biciclette e così ma non è tutto lì giusto? non è tutto lì il problema della guerra alla mobilità privata non ha prodotto un miglioramento del servizio pubblico anzi se vogliamo partire da quello ci parto volentieri linee tagliate a Milano linee soppresse linee modificate senza senso parliamo della 73 perché è stata eliminata? abbiamo appena parlato tutte le mattine ne parliamo e su quello abbiamo un parere condiviso mi dica anche la sua dubbio perché la 54 è stata modificata? perché la 61? nel senso erano linee che portavano in centro la 73 non è sostituita dalla metropolitana confermata da Teo è un chilometro a piedi non è che la gente lo fa volentieri adesso non è che la gente non cammina più però la 73 serviva via Le Corsica serviva corso 22 marzo non dico che dovesse più arrivare fino all'Inate ma almeno fino all'incrocio con il Senate per dire e poteva benissimo essere tenuta in vita invece la fa soppressa attenzione oltre a quello il numero di corsi viene diminuito perché non ci sono più autisti punto di domanda non ci sono più operai che fanno servizio di manutenzione punto di domanda forse l'ATM paga troppo pochi dipendenti e questi scappano da Milano sicuramente sì a giudicare dagli incentivi che l'ATM sta facendo visto che ti paga la patente eccetera magari c'è un problema ecco sicuramente sai io vengo a prendere la patente a Milano poi mi ritrovo con 1300 euro al mese non riesco neanche a pagare uno straccio d'affitto prendo la patente e me ne vado da un'altra parte senza nessun problema quindi un tema molto più grande è quello del costo della vita a Milano che è molto complicato lei la prima ha definito però che ci sia che è in atto una guerra alla mobilità privata è una guerra è una guerra alla mobilità privata che sta producendo dei danni giganteschi due tre giorni fa in Buenos Aires dove è stato fatto un intervento scellerato riducendo le corsie tagliando i posti auto anche per i disabili una persona si è sentita male l'ambulanza è arrivata con molto ritardo perché non riesce a passare più non passa più i mezzi AMSA devono salire sui cordoli di cemento per poter caricare anzi per poter caricare la spazzatura dei negozi i negozi 325 negozi mi pare sul corso più importante d'Europa ha tolto forse i Champs di Parigi non riescono a scaricare la merce non riescono e devono inventarsi il modo c'è un S lunga ricordiamo che c'è un S lunga ma Dubini forse però la domanda è questa ha senso nel 2023 che esista un corso Buenos Aires uno con un S lunga e mezzo due con le auto private che intralciano le ambulanze e i mezzi dell'AMSA perché lei gira la frittata dall'altra parte poi io dico il problema è l'AMSA è giusto che sia lì ma io e Dubini possiamo andarci in altra maniera perfetto ha senso invece ridurre la mobilità privata anzi tagliandola del tutto e creando ingorti a destra e sinistra non lo so non so se ha senso o forse aveva più senso creare studiare scusatemi un piano per Milano ma studiato a fondo con persone competenti e non incompetenti dov'è la falla secondo lei del sistema cioè dov'è che non è stato studiato bene una giunta modesta produce risultati modesti questa è l'unica falla che c'è a Milano punto è l'unica falla perché per esempio parlavamo di grande Milano San Giuliano Binasco e altre cittadine che comunque sono produttive comunque portano lavoratori a Milano perché sono stati ignorati fino a oggi San Giuliano come è collegato a Milano con un pullman e basta come fa? anche Bucinasco sta cercando di avere la fermata della metro e non ci riesce effettivamente faccio un esempio se mezza mattina esco con i cani faccio il mio giretto vedo muratori e li conosco anche ormai nei cantieri qua in zona che vengono da San Giuliano e sono lì alle 7 meno un quarto di mattina quindi perdono un'ora un quarto della loro vita più il trasporto fino a Milano perché non possono lavorare fino alle 8 ma non possono prendere nessun autobus dopo un certo orario perché ci sono gli studenti e perché non ci sono corso quindi lei adesso devo dire che è un po' arrabbiato sul sistema del TPL mi sembra di capire cioè non è solo cioè da una parte dice lasciateci andare in giro con le nostre auto non rompeteci le scatole dall'altra però dice se dovete fermarmi datemi un'alternativa valida questo se ho capito bene allora se io ti fermo mi dai alternativa come stai dicendo invece non esiste alternativa purtroppo anzi è peggiorata la situazione allora il traffico a Milano non è diminuito i dati lo confermano perché comunque sia poi metterai la cera B così ma chi deve lavorare lavora la sosta di massimo di un'ora in centro è un'altra follia perché se devo andare a una riunione o sono un medico o sono chiunque sia non riesco neanche a capire la sosta di due ore uno dice poi muovete in altro modo sì quale molte cittadine ripeto non hanno altri modi purtroppo e non sono pochi intorno a Milano settimo milanese faccio un altro esempio è dalla vostra parte giusto come zona sì è qui in fondo la via Lovara per intenderci perché non sono stati creati parcheggi di corrispondenza oltre a quelli già esistenti ma esistenti da decenni perché sono bloccati nei cassetti più di 50 parcheggi sotterranei a Milano perché non vengono fatti parcheggi sopraelevati in zone diciamo di interesse interesse intendo di scambio fra la città e la grande Milano non è stato fatto niente da questa giunta nulla assolutamente niente gran tali di nastri alberi di Natale orrendi e finiamo così Dubini cosa c'hanno gli alberi di Natale che non vanno bene adesso anche gli alberi di Natale quello in galleria quello in galleria non l'ha fatto il comune però lì l'ha fatto la mesona la sala non va a tagliare il nastro guardandolo dice signore questo non è possibile fa schifo rimandatela a casa appiggiare il bottone in questo caso appiggiare il pulsante appiggiato anche il pulsante per accenderlo infatti voglio dire dai cioè il comune non può non aver ricevuto il progetto non può averlo accettato non può non averlo accettato comunque dal punto di vista dei dati è oggettivo il fatto che area B area C non stiano funzionando ma non possono funzionare questo è il problema il vero problema è quello che non può la gente deve lavorare non può rimanere a casa ma non lo smart working può avere sopperito ad alcuni dati ma gli idraulici i fabbri i muratori gli artigiani devono muoversi ma voi avete in mente scusatemi però le macchine che vedo sulla circolazione interna non sono solo fabbri e idraulici allora vogliamo parlare dei camioncini targati diciamo Amazon quanto è aumentato il traffico dei camioncini che consegnano le cose a casa vogliamo tutto subito vogliamo il pacchetto subito dopo 24 ore a casa bravissimo tu hai perfettamente ragione faccio un altro esempio sono state date un mare di licenze per i supermercati di zona che stanno poi chiaramente mandando in rovine i supermercati come posso dire i grossi centri commerciali quelli più grandi ma avete in mente un camion che trasporta verdura frutta per l'esse lunga il carfuro che volete voi come può non intasare una via via scesa faccio un esempio ma come si fa quello che non vuoi dire Dubini mi racconti una cosa però in tutto questo voi perché poi siamo quasi in conclusione il 2 dicembre vi siete trovati chi eravate e perché vi siete trovati ci siamo trovati con futuro Milano con un'altra associazione con il comitato Lazzaretto un'altra associazione e tante altre associazioni milanesi di persone molto scontente della situazione per cercare di capire se esiste una linea comune e finalmente fare una lista civica vera e propria a partitica che possa presentarsi alle prossime elezioni io già in mente io poi sono io e basta parecchi assessori non competenti molto di più che a mio avviso risolleverebbero Milano e Dubini candidato sindaco nel caso? no io no io posso chiudere dicendo che purtroppo Milano da città inclusiva che sempre è stata c'era anche l'ex assessore Goggi che ci ha dato un'ampia e incredibile storia di Milano da un certo punto di vista urbanistico da città inclusiva è diventata una città esclusiva e questa è una volontà precisa degli ultimi tre mandati degli ultimi tre sindaci chiarissimo Dubini io la ringrazio perché c'è un quadro preciso di quello che state facendo di quello che pensate comunque io lo spero in un po' calupo noi putiamo avanti un programma che è molto sociale non è né esclusivo né non è che io voglio andare in macchina perché devo andare in macchina però se ho bisogno datemi la possibilità punto bicicletta ancora niente Dubini? ma no io con il numero di camioncini che girano a Milano non ci vado in bici ma assolutamente ce la faremo più che legittimo però più che legittima questa risposta Dubini cioè leggendo i numeri i pericoli e Dubini è contento ha trovato una spalla qui ha trovato una sponda qui in studio per lei è contento guardate secondo me il problema è che si lega sempre il progetto mobilità privata come se fosse un qualcosa di negativo di secondo me è un sistema che funziona e veramente bisognerebbe che la giunta andasse ad Amsterdam a vedere come funzionano i cinque livelli di mobilità che loro hanno canali pedoni motor biciclette motorini automobili e mezzi pubblici e tutti girano certo non hanno 4 milioni e mezzo di persone Amsterdam non ha l'Interland Amsterdam è solo Amsterdam noi abbiamo 4 milioni e mezzo ripeto giunta modesta risultati modesti perfetto Rubini grazie mille allora ci dà le coordinate finali per seguire bene muovermi per la grande Milano se volete seguirci muovermi per la grande Milano è un gruppo facebook numeroso e interessante per i contenuti perfetto va bene se dice Rubini poi insomma non si gioca in casa però facile no Rubini grazie mille il sole la sta baciando vedo in questo momento da frattempo l'alba ormai è passata il sole la sta baciando quindi la ringrazio e ci sentiamo alla prossima allora e io ringrazio voi per l'ospitalità e per la gran gentilezza che mostrate sempre grazie mille allora Eduardo Rubini buona giornata e adesso andiamo con i Mane Skin Mane Skin zitti e buoni 8 e 23 minuti Crystal Radio Good Morning Milano stiamo per andare in pausa fra poco appunto il nostro ospite è già dietro il vetro come si dice in questi casi assolutamente puntata ricca anche oggi tante posizioni e siamo qua pronti ad ascoltare e a dialogare vuoi anticipare il nostro ospite? si sarà Paolo Romano e parleremo di di sbagliate cose faremo un po' il punto politico sulla situazione in regione appunto chiederemo delucidazioni su questa notizia del CPR e molte altre cose tanto 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 altro sempre qui su Crystal Radio dopo ovviamente la grande musica che tutti i giorni sentite qui a Good Morning Milano e allora vai con Sting con la pesce di Martino insieme alla Lavanoni Toy Boy 8 e 32 minuti Crystal Radio Good Morning Milano e anche ricordiamo ci siamo in diretta anche su Milano All News potete quindi anche vederci ma soprattutto vedere chi? Paolo Romano Paolo Romano consigliere in regione Lombardia Quota PD buongiorno consigliere e abbiamo letto partiamo subito dalla vicenda del CPR perché prima abbiamo letto la notizia cosa avete visto ieri quando siete entrati? Ieri con Pierfrancesco Maiorino siamo entrati nel centro per il rimpatrio i CPR così più noti di Milano in via Corelli dove da poco come sapete è scoppiato un caos mediatico giudiziario importante meno male meno male meno male perché si è finalmente diciamo scoperchiato il vaso di Pandora e si parla di migranti a cui venivano somministrati i pasti ammuffiti e altre e altre violazioni dei diritti umani ciò che ci ha molto colpito è che la realtà la cooperativa che gestisce quel centro è in realtà rimasta la stessa nonostante l'apertura delle indagini Romano tu prima mi dicevi appunto che sei entrato e ti sei ritrovato e sei preso dicendo ma come siete ancora qua a lavorare assolutamente non è cambiato nulla quindi non è cambiato assolutamente niente e rimangono il luogo che abbiamo conosciuto nei tanti sopralluoghi di questi mesi un non luogo che ha una caratteristica molto grave ha delle condizioni peggiori del carcere ma tu non sei reo di aver commesso il reatto è un reato amministrativo in realtà un illecito amministrativo se non sbaglio per cui molti di loro che magari alcuni di loro avevano avuto precedenti esperienze in carcere dicevano ma io in carcere se i miei familiari mi dovevano mandare dei vestiti mi mandavano un pacco qua devono attraversare mezza Italia e presentarsi altrimenti non si può consegnare niente ma io in carcere avevo le attività stavo rimparando un lavoro qua non posso fare nulla la mattina e la sera cioè di fatto preferirebbero essere messi in carcere questo è il punto a cui abbiamo portato i diritti con i CPR e aggiungo una cosa per chi diciamo non condividesse la sensibilità sui diritti umani tra l'altro non funzionano perché anche nel CPR di Milano a loro detta ieri più della metà delle persone che vi entrano non vengono rimpatriate e dopo tre mesi in cui vengono recluse in maniera assurda vengono poi lasciate libere pensate tra l'altro con che bomba sociale perché prendete uno di noi tre mettimi tre mesi chiuso in una stanza con i miei diritti violati senza che io abbia compiuto un reato e poi rimettimi fuori in società penso tendenzialmente che non saremmo esattamente sereni e felici quindi un fallimento su tutti i fronti vengono presi in ostaggio potremmo dire per una propaganda che non serve a niente alla fine perché non porta niente ma neanche la propaganda stessa mi devo dire secondo me forse non porta nulla neanche la propaganda stessa è questo che mi sconvolge sempre dei CPR e ricordo sempre teniamo gli occhi ben aperti su questa cosa perché lo trovo veramente assurdo che a Milano nel 2023 esista un luogo del genere mi auguro che appunto adesso con molti in più non solo Romano ma molti in più appunto stanno parlando e visitando e guardando e raccontando quello che succede all'interno speriamo che insomma qualcosa possa possa cambiare o che almeno appunto si riventa un attimino tutto quello che è quel sistema lì esatto e intanto ci colleghiamo anche a un discorso che abbiamo fatto ieri perché ieri ai nostri microfoni c'era Federica Valcauda di associazione Enzo Tortola Radicali Milano e ho visto che tra la gente a Roma c'era anche te con il cartello con scritto io coltivo sì ho preso un treno molto presto perché volevo esserci perché la grande secondo me il tema della legalizzazione della cannabis lo dico per chi ci ascolta è la grande ipocrisia la grande presa in giro italiana un paese in cui abbiamo centinaia se non migliaia di morti nelle strade per tasso alcolemico ogni anno e in cui invece non ci si può fare una canna lasciando tra l'altro un mercato stimato da studi molto approfonditi in 6 miliardi di euro in Italia solo per la cannabis in mano alle mafie in mano alle mafie che vuol dire che noi stiamo finanziando tutto ciò che contrasta lo Stato pensate che il gettito se si legalizzasse la cannabis e la tissa si tassasse varia tra i 3 e i 5 miliardi di euro di tasse che potrebbero entrare nello carcere lo Stato che vorrebbe dire educazione sensibilizzazione delle dipendenze a scuola che vorrebbe dire opere pubbliche che vorrebbe dire finanziare l'istruzione i servizi per le famiglie perché poi sappiamo che molto spesso le dipendenze sono legate anche a delle difficoltà di contesto familiare e invece no e invece sulla cannabis si racconta di tutto anche cose che scientificamente non sono vere e dal punto di vista politico il PD può essere d'accordo su questo perché sappiamo benissimo che all'interno dello stesso PD nazionale e chiedo a te anche conferma su quello regionale c'è una divisione sul tema è bello svegliarsi 8 e mezzamattino con queste domande no? le domande sul PD ormai sono parte della mia frustrazione quotidiana non male da un iscritto al partito non male ci sono ovviamente posizioni diverse che è anche una cosa molto bella del PD che si chiama pluralismo ma c'è anche il fatto che si chiama partito democratico perché poi noi decidiamo in maniera democratica e in democrazia chi ha la maggioranza porta avanti la linea a nome di tutte e di tutti Elislein ha vinto un congresso nazionale dentro il programma di Elislein c'era la legalizzazione delle droghe leggere quindi direi che la posizione del partito democratico in questo caso almeno dal febbraio del 23 ad oggi è molto molto chiaro ecco forse non è così chiaro a chi vi segui mi viene da dire cercate di dirlo come diceva Moretti lo nomino spesso ultimamente dite qualcosa di sinistra a questo punto perché con una segretaria così è anche facile mi viene da dire fatelo però perché forse c'è qualcuno a casa che si è un attimo perso ieri si diceva se non ora quando che c'è il partito ci parlavamo solo a slogan intanto lo diciamo a Good Morning Milano il partito democratico sostiene la legalizzazione della cannabis e la proposta di legge io coltivo che siamo andati a lanciare in piazza Roma tra l'altro con una piccola parentesi simpatica che non so se avete colto che ci hanno schedati tutti cioè eravamo 30 40 persone tranquillone tranquillissime con dei cartelli in mano davanti al Parlamento nella stessa piazza in cui due tre anni fa Salvini faceva un commizio da 800 persone non autorizzato ci hanno schedati tutti io stesso ho dovuto dare il documento a essere identificato quando ho chiesto perché mi è stato detto regolare procedura amministrativa è andato anche bene considerando che c'era Maggi tra voi in piazza e l'ultima volta che Maggi è stato in piazza con un cartello non è finita benissimo per la vicina alla carne sintetica sappiamo benissimo ecco la quindi bene i temi sono tanti anche tornando invece alla nostra quotidianità c'è di mezzo un bilancio che tra poco dovete cercare di approvare giusto in regione finito qui andrò in regione per il dibattimento del bilancio che durerà lo anticipiamo anche alla maggioranza tanti giorni questa volta ma fasi una telefonata prima perché in comune stanno facendo il contrario cioè quella maggioranza che tu adesso vuoi fare la notte in regione ha fatto fare la notte in comune ai tuoi amici 9000 emendamenti ai tuoi amici a Bottelli a Gaia Romani che sono tutti i tuoi amici 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 che sono passati poi sul tardissimo a casa mia ieri sera però c'è una piccolissima differenza la Lombardia ha 10 milioni di abitanti in Europa sarebbe uno stato di medie dimensioni con un'economia anche abbastanza importante se io vi dicessi che in uno stato di medie dimensioni di 10 milioni di abitanti in Europa viene tagliato linearmente il 19,5% della spesa su tutti i capitoli tranne la sanità e le politiche sociali voi cosa mi direste? così non va bene rivoluzione in piazza scende la gente con i forconi tagliano sui trasporti tagliano sull'istruzione tagliano sul lavoro ragazzi la regione Lombardia presenta un bilancio con un taglio lineare sulle risorse proprie del 19,5% su tutti i capitoli di spesa perché ha fatto troppi debiti con la legge 9 che qualcuno che a lungi da me farlo chiamerebbe la mancetta elettorale prima delle elezioni c'è una legge con cui negli ultimi due anni di governo hanno distribuito soldi a pioggia ai comuni specialmente amministrati dal centro-destra per fare opere pubbliche si sono accorti che gliene erano dati o promessi per i prossimi anni quindi impegnati per i prossimi anni troppi e hanno detto su tutte le fonti di spesa noi dobbiamo tagliare il 19,5% questa cosa non si sa però sono opere che bisognerà fare perché la regione comunque ha bisogno di opere bisogna di fare cose sono spesa corrente faccio un esempio stupido la regione si occupa delle borse di studio ok quest'anno le borse di studio costeranno 12 milioni di euro in più perché vengono adeguate all'inflazione la regione decide di mettere 9 milioni di euro in meno ora la matematica per me è abbastanza semplice 21 milioni di euro di borse di studio vuol dire decine decine di migliaia di ragazze e ragazzi che avrebbero diritto perché sono idonei quindi hanno il merito hanno il reddito basso eccetera per chiedere una borse di studio e non la ricevono beh andiamo avanti dopo una canzoncina ok così ci pensiamo ci pensiamo dopo un pezzone così ci pensiamo un attimo riflettete riflettete gente riflettete ok Rino Gaetano con Gianna qui alle 8.41 su Crystal Radio Good Morning Milano Gianna con Rino Gaetano no scusate Rino Gaetano con Gianna non era Gianna con Rino Gaetano ho letto al contrario scusatemi ma perché stavamo parlando appunto fuori onda un po' qui con il nostro ospite stiamo parlando di consiglio regionale di regione un mondo che effettivamente è poco conosciuto no da gente perché prima parliamo controlla magari più quello che c'è del comune vede fa disfa ci litiga anche più più di persona vado lì si parla per ore della ciclabile in corso a Monforte cioè ci sono quelle cose che comunque chiamano il dibattito mentre la regione è più complicata Roma ladrona quindi quella è più facile sempre chiunque sta là è più facile anche incassarsi con chi sta là la regione effettivamente però insomma il bilancio diciamo quanti miliardi stiamo parlando di più o meno 30 miliardi di euro 30 miliardi di euro cioè capito cioè metà del che era il più ricco del mondo aveva un quarto la ciuma di neanche però vabbè pensa a te comunque questo è il primo bilancio che approvi tu cioè a cui lavori l'approvazione in cosa ti aspetti come sta diciamo è un mondo strano la regione la stragrande maggioranza del bilancio è sulla sanità che è la competenza principale di regione cioè le regioni decidono praticamente tutto sulla sanità tranne alcuni cornici livelli di assistenza dati dallo Stato e quindi sì quando non trovate posto nell'ospedale pubblico per la visita ma c'è a 250 euro nell'ospedale privato è perché l'ha deciso la regione Lombardia dando più risorse ai privati che al pubblico ci tengo a stolinearlo e no è stato un anno interessante un anno alienante perché è un luogo come dicevi tu molto lontano spesso dai cittadini e bisogna provare a portarlo vicino perché poi fa cose che riguardano i cittadini abbiamo parlato di sanità ma pensate il trasporto Trenord è gestita ed è di proprietà di regione Lombardia come è andata adesso questa cosa di Trenord che avete ridato il mandato gli hanno ridato tu sei ragione assolutamente contrari 10 anni senza gara sì ma perché quando una cosa funziona bene come Trenord che hai proprio questi treni nuovi puntuali sempre in orario che entrano tutti nelle gallerie tutti tra l'altro ma anche da cimetti la notizia è vera hanno comprato dei treni che non entrano nelle gallerie che non possono essere usati su quella tratta è straordinario e quando funziona tutto così bene perché non rinnovarlo senza gara quindi senza neanche la competizione per altri 10 anni aumentando il compenso questo è il magico mondo e l'inflazione vanno adeguato all'inflazione immagino giusto cioè quello e col rischio che l'Europa poi ovviamente che dice non è che dice sono brutta e cattiva dice se affidate un sacco di soldi pubblici per fare qualcosa fate una gara d'appalto in modo che vediamo chi fa l'offerta migliore e noi non li abbiamo ascoltati neanche stavolta ma poi le gare d'appalto vanno a ribasso adesso si spende meno come funziona metti i paletti vuoi che lo stipendio minimo di un ferroviario tra i nord sia questo vuoi che il numero minimo di corsi sia quello e poi ti offrono il servizio a quel punto detto ciò la cosa più divertente di questi stavo dicendo ci salverai qualcosa però durante tutta questa esperienza due cose uno essere riuscito a lavorare anche con la maggioranza su una mozione per chiedere che le caserme abbandonate diventino studentati che è una cosa a cui tengo molto che siamo riusciti a fare passare e due avere portato una zucca di Halloween a Fontana perché la loro manovra faceva paura lì qui c'è stato dibattito te lo dico io mi sono dissociato e ho detto basta queste buffonate te lo dico proprio in faccia Paolo e invece a me non piacciono quelle però ti sei divertito tu sì mi sono detto vabbè comunque è divertente è stato un po' di dibattito il fine c'è ti racconto il retroscena ecco c'è un backstage non c'è stato permesso di dibattere degli aumenti sulle tasse su pannolini latte in polvere assorbenti fatte dal governo Meloni e che regione Lombardia con un ordine del giorno negli anni passati si era impegnata a chiedere al governo di abbassare perché dovevamo discutere delle cartucce dei cacciatori allora dopo un po' mi sono stufato e quando la maggioranza non ti permette di parlare dei problemi dei cittadini l'unico modo per fare un po' di rumore a volte è fare un po' il buffone che è una cosa che non piace nemmeno a me ma ci portano diciamo come estrema razio a questo e lo vedremo anche a questo bilancio pensate che questo bilancio ha il minutaggio come peggio dei calciatori cioè vuol dire che c'è un tempo massimo in cui in cui i consiglieri possono parlare io penso avrò 3 minuti 5 minuti al massimo in tutto il bilancio quindi siamo 80 dobbiamo provare un bilancio che vale 30 e passa miliardi di euro per 10 milioni di persone ma abbiamo 3-4 minuti a testa per intervenire per scelta della maggioranza regionale e di fronte a questo capite che molto spesso l'unico modo per far emergere le proprie proposte è fare cose sensazionalistiche se si potesse discutere seriamente dei problemi delle persone e delle nostre proposte al bilancio così come delle loro non ci sarebbe bisogno ma la maggioranza la discussione non la vuole purtroppo e anche quest'anno comunque in tutti i bilanci si prenderanno decisioni per sfinimento perché alla fine è sempre quello il discorso non c'è un'altra modalità per sono le linee di indirizzo per il futuro è la cosa più importante che può uscire da un'aula e ci arriviamo sempre per sfinimento ma questa roba qua manda ai matti vedremo come va allora buon bilancio grazie mille e buona radio a Good Morning Milano bene grazie mille allora al nostro ospite noi continuiamo ancora con un po' di musica ma poi comunque torniamo sempre qui per i saluti finali e sarà una lunga giornata per il nostro ospite oggi ho idea va bene andiamo avanti adesso con Girls and Boys loro sono i Blur grazie mille grazie mille grazie mille